Ciao a tutti, fan del Grande Fratello. E benvenuti al nostro recap settimanale delle ultime puntate. Oggi analizzeremo gli ultimi avvenimenti nella casa più famosa d'Italia e daremo un'occhiata alle valutazioni dei concorrenti. Cominciamo con l'ultimo episodio, che ha visto alcuni momenti abbastanza intensi. Beatrice ha avuto un momento difficile, ricevendo un voto di 4 per il suo scivolone, dimostrando che anche la regina di cuori può commettere errori irrimediabili. Le sue azioni contro Giuseppe hanno causato una certa disapprovazione, ma la sua intraprendenza rimane indiscutibile. Poi c'è stata Anita, che ha ottenuto un voto di 3. Le sue battute fuori luogo e comportamenti discutibili non hanno aiutato la sua immagine. Nonostante ciò, la sua capacità di generare dinamiche interessanti nella casa rimane indiscutibile. Fiordaliso, invece, ha ricevuto un voto di 7. La cantante, solitamente energica sul palco, ha avuto momenti di crisi che hanno suscitato preoccupazione. Il suo ruolo nella casa rimane cruciale, e speriamo che trovi la forza di continuare fino alla fine. Infine, c'è stata la toccante storia di Perla, che ha ricevuto un meritato voto di 8. La sua storia di dolore, cadutea e rinascita ha colpito profondamente il pubblico. Riesce sempre ad essere un percorso emozionante e autentico, conquistando il cuore di tutti. Questo è tutto per il nostro recap di oggi. Cosa ne pensate dei voti dei concorrenti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E non dimenticatevi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti su un grande fratello. Grazie per essere stati con noi oggi, ci vediamo la prossima settimana per un altro recap emozionale.